Oh sembra tutto a posto La dignità! Dov'è la dignità? Girl says hallelujah Dammi 5 Girl says hallelujah Alboreto is nasty Girl says hallelujah Fenomenale! Cos'è sta roba? Don't believe me just watch Ciao ragazzi, quello che abbiamo appena visto è un pezzettino del nuovo trailer ufficiale del nuovo film di Paolo Ruffini Sì, il buon vecchio Paolo ci riprova Dopo aver fallito con Fuga di cervelli e tutto molto bene ritroviamo al cinema un suo film Super Vacanze Natale Il meglio di 35 anni dei cinepanettoni di Cristian Fessica e Massimo Boldi Cos'altro aggiungere? Due cosette veloci Il cinepanettoni di quest'anno che esce il 14 dicembre, ricordiamo ci rovinerà il Natale come avevano fatto già i loro predecessori ma questa volta è un'accozzaglia di scene tratte da tutti e 35 i film del duo e unite per formare un film da 90 minuti una cosa che potevi tranquillamente trovare magari con un minutaggio più corto ma che potevi benissimo vedere su YouTube non serviva e non serve dover far pagare un biglietto per sta cagata Vabbè, ciao e comunque per me è una cagata pazzesca è una cagata pazzesca